Il 22 e 23 dicembre intorno alle 19 e 30 dopo la novena nella parrocchia di San Pietro i parrocchiani e non solo per un paio d'ore potranno visitare il presepe vivente. La giornata conclusiva sarà quella del 24 dicembre dopo la veglia natalizia con una piccola processione verso la location scelta per l'allestimento del presepe e cioè l'anfiteatro. Ogni anno accolgo sempre con gioia le novità che i parrocchiani e in maniera particolare i giovani propongono e quest'anno la proposta nasce dal gruppo scout CL1 presente ormai da decenni qui in parrocchia presso la parrocchia San Pietro di Caltanissetta. L'iniziativa a mio parere ben si sposa con due grandi avvenimenti che è la parrocchia e il gruppo hanno vissuto in questo anno. Infatti si conclude con questo dicembre il 45esimo anniversario della fondazione della parrocchia. Fu fondata nel 1977 e quindi nel 2022 abbiamo celebrato i 45 anni e allo stesso tempo il CL1 si è trovato a festeggiare il trentennale dal 1991 al 2021 proprio dell'esperienza scout come gruppo CL1. Quindi questa iniziativa la vedo come il coronamento di queste due celebrazioni che si concludono proprio con il Natale del Signore e le vedo come una nascita. Se ci fermiamo a contemplare la nascita del bambino Gesù possa essere per tutti noi una nascita interiore, una rinascita, continuare a essere testimoni gioiosi di Gesù. Un'iniziativa che è nata proprio dai ragazzi del gruppo scout circa 40 e giovani coinvolti che ne stanno curando la realizzazione. Sono ragazzi che vanno dai 12 ai 15 anni e si stanno dando da fare con costumi che possano riprodurre i pastori, stanno cercando di costruire i vari ambiti di questo presepe vivente. Stiamo cercando di trovare anche qualche animale per renderlo più verosimile, questo poi vedremo se riusciremo a inserire anche questo aspetto nel nostro presepe. Però quello che a noi premeva era di portare questi ragazzi a vivere il momento Natale sotto il profilo anche del significato e non soltanto sotto l'aspetto dello stare insieme e del costruire un presepe vivente. Il gruppo che comprende circa 130 giovani e una ventina di responsabili è presente in parrocchia da poco più di 10 anni ma aveva cominciato a svolgere la propria attività a San Giuseppe. I 30 anni sono stati celebrati anche se con un anno di ritardo, con un momento celebrativo e commemorativo a settembre e anche con un libro, Caltanissetta 1, 30 anni in 300 scatti. L'abbiamo festeggiato con un po' di ritardo per ovvi motivi, ci è servito questo periodo per celebrare un percorso lungo 30 anni e di porre le basi per un rilancio e una proposta, speriamo, per altri 30 anni di attività scout. Intanto in parrocchia verranno aggiunti altri elementi proprio questa domenica al presepe allestito vicino all'altare.